dove firma, eccolo qua, che cosa stai firmando? Una class action contro chi? Allora, noi sabato e venerdì scorso abbiamo lanciato in Liguria la più grande class action della storia d'Italia. Abbiamo chiesto, chiediamo, un miliardo e mezzo di danni ad autostrade, mille euro per ogni Ligure, per i danni terribili che ha provocato la popolazione della Liguria dal crollo del ponte Morandi in poi. E questo credo che sia una novità che non riguarda soltanto i Liguri, perché per la prima volta viene usata la class action in una maniera così ampia e la class action io credo che nei prossimi anni, infatti anche per questo fa terribilmente paura a certi soggetti della nostra economia, perché è un'arma di lotta politica nella legalità, nel rispetto della legge, anzi usa la legge, potentissima. Ecco, noi siccome i Liguri hanno avuto dei danni terribili a cominciare dal ponte Morandi, ovviamente, poi il fatto di essere costretti a viaggiare in condizioni di non sicurezza, abbiamo perso occasioni economiche enormi, abbiamo avuto danni ai porti, al turismo, abbiamo avuto degli enormi danni alla socialità, perché le nostre città si sono allontanate una dall'altra, ci siamo allontanati dalle altre regioni, chiediamo per questo dei danni, ma guardate, per noi è importante ovviamente che chi ha subito un'ingiustizia e chi ha subito dei danni abbia un risarcimento, ma soprattutto io credo che questo sia un mezzo per farci recuperare un senso di cittadinanza, cioè non possiamo più subire e lo scopo della nostra class action era proprio questo, in poche ore abbiamo raccolto 4.000 adesioni, credo che anche questo sia un record. No, assolutamente poche, allora ci terrai aggiornati su questa class action, fatemi andare da Francesco Magnani, però...